ragazzi per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina con un clic se sentite un rumore strano lei gatto e sta russando è qua e su un cuscino non lo vedete ma e lui e sta russando eh se sentite un rumore strano non fatevi strane idee ragazzi non lo so dove è cinese ma so che so che eh finiranno i tempi bui perché eh mi avete chiesto di immobile allora allora Giuse ma di immobile cosa ne pensi? Immobile io penso che sia un giocatore in declino perché è un giocatore in declino a mio avviso perché ha perso tutte le doti e poi alla fine lo contraddistinguevano da eh le dagli altri giocatori ovvero sia lo scatto la reattività muscolare dell'agilità la velocità di di esecuzione eh e poi ha un contratto pesante uno che vuole giocare sempre quindi io immobile non lo prenderei nemmeno in considerazione e poi anche lui comincia ad avere la sua età tra l'altro ringrazio ufficialmente per questo regalo non è un regalo di un utente non ti preoccupare ma volevo ringraziare ufficialmente vedete tutti i case non sto vendendo nulla stai almo tutti i case che me lo porto dietro quando sono in giro per lavoro no ringrazio ufficialmente allora ragazzi c'è questo giocatore eh che a me piace tantissimo che me l'avete sentito parlare più volte che è Tiago Gialo Tiago Gialo secondo me è quel difensore che a noi manca bravissimo nell'uno contro uno bravissimo a campo aperto una grande uscita palla una grande uscita palla controllata cosa vuol dire eh che quando esci con la palla non la perde quasi mai ce l'ha incollata al piede giocatore forte di testa bravo bravo quando si spinge in avanti e c'è ci sono ci si sono fiondati i gobbi nelle ultime ore tra l'altro ormai sta girando la voce inter con più canon mercato chiuso mercato chiuso poi dopo ti voglio dire una cosa sulle scelte fatte in estate eh a fine video però te lo dico te lo dico a fine video cioè dal punto di vista professionale cioè molti giocatori hanno scelto la Juve solo ed esclusivamente per un motivo economico lo stesso Bremer Bremer si fa convincere dalla Juve perché gli raddoppiano l'ingaggio rispetto a quello che gli dava l'Inter no? Giocatori come eh come Costici giocatori come Vlaovic maledicono a livello professionale ti dico maledicono il giorno in cui hanno accettato la Juve ma il signor Carlos Augusto che l'anno scorso poteva andare alla Juve con eh ovvero sia l'anno scorso stava trattando per andarci quest'anno stava trattando con la Juve c'era Galliani che spingeva tantissimo ingaggio più alto rispetto a quello che percepisce all'Inter posto da titolare assicurato ma Carlos Augusto fa una scelta professionale diversa non si fa ingolosire dai soldi e viene all'Inter ed ha fatto bene soprattutto per la tipologia di gioia a questo allenatore c'è da dire una cosa che la Juve se ci fate caso visto le vicissitudini economiche parlo dei problemi di bilancio i tribunali perché fino a prova contraria ricordiamocelo sempre nei tribunali e ci sono loro e non ci siamo noi capito quindi la Juve ha perso molto appello internazionale non gioca la Champions League tutti questi tutti questi problemi che la stampa in Italia maschera ma che all'estero vengono amplificati perché ragazzi in Italia mascherano tutto quello riguardo a Juve e Milan ma quando c'è da dare addosso l'Inter e questo lo devo riconoscere ci mettono il carico da novanta sopra e non si fanno problemi vedi il massacro sul discorso della situazione economica che possono avere anche ragione ma parlano solo ed esclusivamente dell'Inter in negativo ovviamente quindi la Juve all'estero ha una pessima reputazione quindi dura molta fatica a prendere i giocatori se ci fate caso come cerca di convincerli cerca di convincerli di pendoli di soldi allora ora io ti dico questo Tiago Giallò non lo vorrei perdere io non so quanto è vera questa cosa della Juve che c'è sopra che non c'è sopra ma questo è un giocatore da non farsi scappare ovviamente chi indetiene il cartellino cerca di racimolare qualcosina ed è anche capibile ma vogliamo seriamente perdere un giocatore in caso sto dicendo in caso io non faccio calciomercato non lo so vogliamo seriamente perdere un giocatore perché non abbiamo cinque milioni Buchanan ricordatelo sempre che è un ottimo prospetto porta dribbling fantasia sicuramente è un ottimo affare ma viene preso perché l'Inter non tira fuori nulla ma qualora ci fossero da tirare fuori cinque milioni il che si fa si perde Tiago Giallò un difensore secondo me con un futuro davanti non radioso di più per come vedo il calcio io non ci voglio nemmeno pensare perché la Juve l'ha già fatta queste cose hanno perso a Pil ma giocano sporco come giocano sporco quanto ti dà l'Inter tre te ne diamo sei capito e poi quelli se vogliono cinque milioni lo scommetto li trovano cinque milioni da dargli quindi occhio Tiago Giallò perché sarebbe una grave perdita per come la vedo io concludo il video dicendoti una cosa quest'anno secondo me difficilmente arriverà un attaccante possa fare la differenza durante il mercato invernale io però ti posso dire una cosa le scelte sono state fatte in estate a me non sono piaciute poi siamo tutti bravi dalla poltrona io su quello non discuto perché se io sono qui e loro sono lì c'è sicuramente un motivo no ma io ti voglio dire una cosa te vai a prendere Pavar 35 milioni circa a sei mesi dalla scadenza di contratto sarebbe stato un giocatore a parametro zero Giuse se non lo prendevi ora poi c'erano i top club che te lo prendevano ok ma le grandi operazioni si fanno così si fanno con grandi giocatori dicendogli guarda ti prendo io non accettare altri club perché se no ragazzi a andare a prendere un giocatore a sei mesi della scadenza 35 milioni siamo buoni tutti parliamoci chiaro bisogna dire la verità non c'è nulla di male nel dire la verità Pavar è un giocatore clamoroso fortissimo ma nelle condizioni in cui siamo noi che a malapena si riesce a pagare la bolletta della luce del gas no nelle condizioni in cui siamo noi poi 35 milioni per come la vedo io io questa cosa l'ho detta subito dopo la fine del mercato estivo ti ripeto è una mia opinione non ti dico che è giusta io ti sto esponendo una mia opinione stai calmo stai calmo quei 35 milioni che hai speso su Pavar non era meglio investirli su una punta e su un difensore ovvero sia potremmi fare 25 milioni una punta e 10 un difensore o 20 milioni la punta e 15 un difensore perché potevi prendere un braccetto difensivo difensivo che era quello che ci serviva che magari potesse giocare anche centrale e potevi prendere un attaccante quello sto dicendo io secondo me fare all in su Pavar è sicuramente una cosa che ci ha fatto stare bene tutti ma se te spacchi il capello in quattro secondo me con quei soldi era più giusto prendere due giocatori nella situazione in cui siamo perché te lo dico noi si rischia di limanere con questo quartetto di attaccanti ma non sono quattro sono due due e mezzo sono sono due e mezzo e anche lì la supercoppa è diventato un mini torneino non è una partita secca c'è la champions c'è il campionato attenzione attenzione per quello ti dico non era meglio prendere un attaccante una terza punta invece di prenderne due allora io avrei fatto non avrei preso né Arnautovic e né Sanchez lo dico dall'inizio lo confermo ora ma non avrei speso soldi di ingaggio cartellino non avrei certificato Fabian a quattro milioni e mezzo perché poi se lo vuoi riprendere Fabian che ricordatelo Fabian va ripreso lo sto dicendo a due mesi devi dare quindici milioni al Bologna dodici quindici io non avrei preso questi due avevi preso un attaccante buono avevi preso un accetto e avrei messo Pio Esposito o l'altro o Sebastiano Esposito come quarta punta questo avrei fatto perché purtroppo ragazzi ad oggi qui siamo tutti a bestemmiare per la punta però non ci sono soldi questo è un mercato cinese di cosa stai ragionando ok chi vuoi ma poi a gennaio li trovi sul mercato un attaccante ti possa spostare gli equilibri lo puoi trovare ma se hai tanti soldi soldi non ci sono ragazzi quindi per me quest'estate indipendentemente dal valore di Pavard che io mi inchino davanti al giocatore perché è tantissima roba con i zaghi può diventare uno dei braccietti più forti del mondo in quel ruolo lì perché lui è perfetto però per assurdo si può rivelare una scelta sbagliata perché te dovevi prendere un attaccante sano insieme a quei due e ora non c'è più soldi per farlo capito cosa ti voglio dire ciao Inter